Terminato l'incontro, 6 a 0 a favore della Virtus Lanciano. L'arbitro di oggi ci ha messo del suo. Ma che cazzo tra i azioni non metti la palla. No. Salve, no. Salve, ma ci stavate, ci stavate. Ma scusa, ma il secondo te sei categoricato. Non ci devi venire. Perché ti senti subito? Che io mi allego. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Da questa è iniziata la partita. Fatti divertire. Stanno giocando a poi. Ma quando ti prendi il rigore che non c'era.